Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo mi preparo con voi Oggi ci trucchiamo insieme, ho un nuovo cerchietto, vi piace? Sì ne avevo presi un po' quando ho fatto l'ordine su Amazon, ne ho presi diversi E iniziamo subito ragazzi, allora la prima cosa che faccio è andare a applicare il primer Sto utilizzando l'Angel Veil Primer di NYX Professional Makeup E sotto ho già applicato la mia skin care, ovvero ho già messo le creme E la crema è quella di Mesauda, la Aquacius con il contorno occhi annesso Che ragazze mi sta piacendo un sacco, veramente tantissimo E adesso metto il primer soprattutto perché andrò ad utilizzare un fondotinta Che secondo me col primer forse performa anche meglio Sono emozionata oggi ragazze perché come penso avrete letto dal titolo Ancora non ho scelto il titolo di questo video, utilizzeremo un prodotto Che secondo me creerà molto hype perché insomma è il periodo delle palette e cose varie Stiamo parlando della famosissima Born to Run di Urban Decay Penso che vi avrò già anche fatto il video di presentazione Che vi lascio linkato nella i dalle informazioni e giù nell'info box Così potete andare a vedere la mia presentazione del prodotto Che ho comprato diciamo in anteprima tra virgolette sul sito di Urban Decay È una figata questa cosa del poterli acquistare in anteprima Allora, I love color intensifying eyeshadow base Mi piace sempre tantissimo Oggi sto provando una nuova inquadratura ragazze Un po' più in alto Perché non lo so, così Voglio provare un po' più in alto Secondo me vengo pure meglio Fatemelo sapere nei commenti qua sotto E ovviamente se non siete ancora iscritti al canale E vi fa piacere seguire i miei video Scoprire nuovi prodotti eccetera eccetera Vi invito ad iscrivervi e a mettere mi piace Perché così capisco quali sono i video che vi piacciono E quali continuate a fare Quali magari fare un po' meno spesso Quindi se il video vi piace ricordatevi di lasciare un pollicino in su E anche un commento in cui mi dite cosa ne pensate In questo periodo le unghie fragilissime Ho tolto anche lo smalto Io vado a periodi Ho dei periodi in cui le unghie sono forti e crescono un sacco Ho dei periodi come questo In cui le unghie sono delle pappe molli Non le sto neanche curando tanto Perché sapete che è una di quelle cose che Non mi sono tanto affini E il fondotinta che andrò ad utilizzare È il Wet n Wild Photo Focus Foundation Nella tonalità Soft Beige Che probabilmente è ancora scura per me Però voglio utilizzarlo E vedere come Dato che ve l'ho già recensito Insomma vi ho già fatto il mio primo impressione Anche questo lo lascio nella i delle informazioni Se vi va di vederlo Però è da un po' che non lo sto utilizzando Quindi sono veramente curiosa Insomma di vedere Se mi piace ancora Oppure no E lo vado ad applicare con un pennello Jessup Numero 104 Buffer Allora ragazze Come saprete sicuramente Ho preso un po' di pennelli Di Jessup Questo è un altro set nuovo Questo qui E voglio ancora ringraziare pubblicamente Martina La dolcissima My Vision Beauty Che me li ha consigliati Perché ragazze Cioè veramente Sono state una scoperta Mica da poco Veramente mica da poco Sono incredibili E li ho già fatti prendere A tutte le mie amiche Se a voi interessa E volete scoprirli Vi lascio il link Di questo set qui Col manico rose gold E di quelli che ho comprato In generale Perché ho preso quello bianco Ma ancora non l'ho spacchettato Ho preso quello bambù Che è quello Con cui Tra tutti Forse mi sto trovando meglio E ho preso questo qua Col manico nero E L'attaccatura rose gold E ragazze Cioè Con il costo di questi pennelli Di questo set Di pennelli Non ci comprate neanche Un pennello da MAC Molto probabilmente Vi ho detto tutto E sono di una qualità Veramente pazzesca Cioè io Infatti non me lo spiego Non me lo spiego Però è bello Perché finalmente Hanno proposto Un brand Su Amazon Si comprano su Amazon Prime Un brand Che porca miseria È accessibile A tutti E propone Dei set Intelligenti Cosa intendo dire Con intelligenti Intendo dire Che è un set Di pennelli Composto anche E soprattutto Da pennelli Da sfumatura Perché io Non so voi Ma ho sempre riscontrato Il problema Soprattutto anni fa Quando ho iniziato Che i set Di pennelli Non avevano I pennelli da sfumatura E mi ricordo Che il mio primo Pennello da sfumatura Era di Sephora Perché all'epoca Si faceva pure fatica A trovarli In giro No? Fisicamente Comunque il colore Ragazze Quasi quasi match Ci siamo quasi 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 Sono abbronzata Ma chissà Che non arrivi l'ora Perché insomma Sarebbe anche il momento Comunque dicevo Questa fatica Incredibile Ancora si trovano Sti cavolo di set Online Anche quelli tipo Mermaid Con il manico Fatto a cose di sirena Sì sì Carini quanto volete Ma innanzitutto Setole dure Perché sono dure A meno che non prendete I Come che si chiamano Già? Oh my god Spectrum Se non ricordo male Comunque A meno che non prendete Quei set lì Che Da che costavano 20 euro Hanno sparato Cifre folli Infatti sta cosa Non me la spiego L'avete notato anche voi Io Spectrum Lo seguo da un bel po' E all'inizio Mi ricordo che I pennelli Costavano pochissimo Ma veramente pochissimo Adesso ci sono Dei set che costano Centinaia di euro Ma sono fuori di testa Comunque A meno che non prendete Quel tipo di set Di pennelli lì Infatti Lo sto consigliando tanto Questo marchio Just up Perché è veramente Una figata E poi con Amazon Prime Vi arriva nel giro Di due giorni Se va bene Anche uno Ok Quindi fondotinta Applicato E adesso Correttori ragazze Ovviamente Close up Di Nabla Che sto Come vedete Testando Parecchio Perché Mi piacciono Ma voglio farmi Una idea completa Un po' Su tutta questa linea E poi farvi la recensione Sulla spugnetta Posso già dirvi Che è top Che è top Ve la straconsiglio Mi piace tanto Quella non ci va tanto Per capirlo I correttori invece Mi riservo Qualche Tempo Ancora Sono indecisa Tra il cream beige E il light peach Però mi sa che uso Ancora il light peach Perché il cream beige È un po' Troppo scuro Vedete Sì Usiamo il light peach Che mi contrasta Anche un po' Il blu Dell'occhiaia Blu viola Perché poi Le mie occhiaie Sono strane Sono anomale L'unica cosa Di questi correttori Lo sto dicendo In ogni video È veramente Sfumateli In fretta Che sia col pennello Che sia con la spugnetta Ma in fretta Perché si fissano Guardate quanto è bello Questo Questo correttore Quanto mi piace Ne metto un cicinina Anche qui Ma poco Giusto perché Vedete che Nonostante sia Light peach Illumina un sacco Quindi Vado a continuare La mia luce Anche sullo zigomo Così Preferisco metterne Poco alla volta Di questo Mi prudeva il nano Mi prudeva col pennello Preferisco metterne Poco alla volta Di questi qua Perché A parte che si asciugano In fretta Ma poi hanno Veramente tanto pigmento All'interno Quindi spesso e volentieri Non serve fare Una passata Unica Pesantissima Tante volte Basta anche solo Mettere La quantità giusta Di prodotto Quindi un puntino Se non dovesse bastare Perché le occhiaie Sono abbastanza evidenti Meglio procedere Con cautela Poco alla volta Così Poi quel che resta Lo spalmo anche un po' Sul dorso del naso Ah Come diciamo Burro cacao Chiamiamolo così Sto usando Da un po' di tempo Il Nettare per labbra Perché Questo è un prodotto Con il quale potete fare I mix vari E creare i vostri gloss Con gli ombretti Però io non riesco a usarlo In questo modo Perché se devo usare Un gloss Ho i gloss E quindi sostanzialmente Non lo uso E lo sto usando Come burro cacao Devo dire che Top Pre make up Ma anche per l'estate Avere un po' di gloss Sulle Sulle labbra Vi dirò che Quest'inquadratura Quasi quasi mi piace Ok Adesso voglio fare Un po' di contour E userò Questo kit Di Debbie Questo è lo Scalp Experience Creamy contour Nella tonalità 02 E praticamente È un prodotto Per il contouring L'ho già provato Su un'amica di mia sorella Però lei Ragazze Lei ha la carnagione Di almeno Tre toni Più scure Della mia Però io voglio provarlo Ecco Infatti Per me È scuro Allora Sto usando Il colore Più chiaro Per andare a illuminare Più che altro Perché ho pensato Magari per l'estate Anziché usare Un fondotinta in crema Usiamo un polvere Però sotto Facciamo Quando vogliamo fare Le faighe Facciamo Il contouring in crema Con un prodotto Tipo questo E lo fissiamo Poi con il fondotinta In polvere E voilà Così non abbiamo Tutti gli strati Di fondotinta E cose varie Al di sopra Penso che possa essere Una figata Comunque Queste creme qua Sono veramente Cremosissime Hanno una sfumabilità Pazzesca Sto usando Il 110 Face Shape Di Zoeva Che è un pennello Perfetto a questo scopo Ma vi dirò Che anche nel set Di Jessup C'è identico Infatti Prendono molto Ispirazione A Zoeva Guardate qua Questo è Il 110 Ma infatti Si chiamano uguali Infatti Credo Diciamo ancora una volta Infatti Vabbè Credo Seriamente Che questi Siano i pezzi Tra virgolette Fallati Non approvati Dai controlli qualità Di Zoeva Ed eccoci qua Con Jessup Secondo me Raga È così È così Non è possibile Che siano Veramente Così tanto simili È incredibile Come cosa Anche il font Della scrittura Dei numeri Dei pennelli È quello Ora Prendiamo il marrone E adesso vi faccio vedere Quanto Facile è da stendere Ovviamente Bisogna sempre Prenderlo un poco Alla volta Not too much Because Se non riuscite A sfumarlo E vedete Ho fatto tre puntini E si sfuma Con una facilità Pazzesca Guardate qua Io ho sempre avuto Paura Del contouring In crema Perché Onestamente Ci sono Dei prodotti Che Mi incutono Terrore Dal momento Che non si riescono A sfumare bene Qui sembra di usare Una polvere Perché Una semplicità Di applicazione Così Io Da un prodotto In crema Veramente Non l'ho ancora Mai trovato Ed è debbi Ragazze Cioè Non stiamo parlando Di mac Non stiamo parlando Di chissà chi Stiamo parlando Di debbi Il colore è perfetto Non è né caldo Ma neanche freddo Mi piace tantissimo Cioè Lo sto sfruttando Un sacco E vorrei vedere Magari Di provare a usarlo Appunto Per L'estate Sotto il naso Senza prelevare Ulteriore prodotto Ovviamente Se avete il naso Grosso Anche i lati Del naso Io più che altro Ho la patatina Ero partita Con l'idea Di regalarlo All'amica Di mia sorella Ma raga Me lo tengo Me lo tengo Like it so much Ora però Bisogna fissare il tutto Ecco Una cipria Che voglio provare È l'Emotional Brilliance Di Lush Che l'altra volta Non ho potuto provare Guardate che figata Cioè Ha Il erogatore di prodotto Con la scritta Lush È bellissima Questa cosa Fa parte Di quei prodotti Oddio Mica free Ok Potete anche Togliere Il sifter E avere direttamente Il prodotto Così Però io non vorrei Toglierlo Deve essere una cipria Illuminante Anche per quanto riguarda Ok Per quanto riguarda Il color correcting Perché è leggermente rosata Per applicarla Però usiamo il pennello Di Nabla Che ancora non vi avevo Fatto vedere Mi sa Mi sa che ancora Non ve l'avevo Fatto vedere Prima di applicare Prima di applicare La cipria Ovviamente Assicuratevi Di non avere Il correttore Nelle pieghe Le ciprie Che hanno Questo colore rosino Praticamente Sono pensate Per illuminare Il viso Perché il colore rosa Da questa luce Naturale Al viso Senza però Essere brillantinate Attenzione Perché Luminoso Non vuol dire Brillantinato Se un prodotto Luminoso Brillantinato Siamo nella Old school Proprio vecchia concezione Perché Oggigiorno Non si usa più E ovviamente Avendo fatto Il contouring In crema Ragazze Dovete tamponare Non dovete fare Troppi movimenti circolari Almeno per la prima applicazione Poi dopo Potete spolverare Gli eccessi E cose varie Però Per la prima applicazione Almeno Dovete tamponare Anche un Discreto effetto Pore refining Ragazze Non è neanche Troppo spessa Sulla Sulla pelle Mi piace Non ha odore È completamente inodore Devo dire Che mi piace molto Una polvere fine Semi trasparente Con talco E olio di jojoba Uniforme Precisa la pelle Mentre salta la luce Per un tocco Perfetto Il talco Non è il massimo Della vita Però sicuramente Sarei percentuali Accettabili Perché il talco Tappa i pori della pelle Figuratevi che lo usavano Per fissare i ceroni In teatro E penso si usi ancora oggi Con questo scopo Però Non è il massimo Ora Faccio le sopracciglia E arrivo Here we go Ragazzi Allora Ho fatto le sopracciglia Utilizzando il brow pot Anzi la brow pomade Medium brown In makeup revolution È incredibile come Questo sia il colore Perfetto Della mia base Io non ho tinte Io non ho tinte o cose Di questo genere Però la base Di miei capelli È più scura Rispetto ai riflessi E alle punte È incredibile Come sia esattamente Il mio colore Ho cercato Di fare le sopracciglia Meno arcuate Del solito Perché tante di voi Le amano Alcune di voi Non apprezzano Questo mio Amore Per le curve Perché dovete sapere Che nel makeup Io non amo Le rigidità Non mi piacciono Le forme Rigide Trovo che Incupiscano E soprattutto Mascolinizzino Parecchio I lineamenti Mi piacciono Le curve Morbide E quindi Anche nelle sopracciglia Il sopracciglio Così Tan tan Non mi piace Quindi Insomma Ho cercato Di farle Meno arcuate Però Un po' di Curva morbida Io ce l'ho Sempre 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 Allora Adesso ho messo Il mio fissante Preferito Che è quello Sempre di Debbie Che qualcuno di voi Mi ha detto Che l'ha cercato Appunto Nelle OVS Cose varie Le hanno detto Che era un'edizione limitata Porca miseria Ragazze Sai così È un grandissimo peccato Perché è veramente Un ottimo prodotto E ora Veniamo al pezzo forte Veniamo al pezzo forte Perché Ragazze Come l'ho vista Ho detto No Questa deve essere Mia Assolutamente Oh My God Mamma mia Ragazze L'ho già sbocciata In tutte le salse Ha uno specchio Immenso Ma Vi rimando Il video di presentazione Non mi dilungherò Su quello Però sicuramente Vi dirò Le mie primissime impressioni Perché è la prima volta Che la uso sugli occhi Le mie primissime impressioni Relativi appunto All'esperienza di utilizzo Del prodotto Primo colore Che vado a mettere Nella piega Si chiama Weekender Ed è Questo colore qua È un Nocciola chiaro Vedete perché Io non riesco Spesso a farvi vedere I colori Perché con le luci Che abbiamo noi Durante la registrazione Di un video Spesso e volentieri Non si riesce a far vedere Bene i colori Comunque allora Polverosità Estrema Dal Prelevamento Dalla cialda Sto usando Il vecchio 224 di MAC E lo uso Come primo Transition color Questo qua Sapete che io amo Questa cosa Proviamo a non scaricarlo Ok Meglio E niente In sostanza Spolverano Tantissimo Cioè Non so se riuscite A vedere Quanto spolveramento Mi sta dando qui Però posso dirvi Che al tatto Le polveri Sono iper 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 Vellutate Ma sono una cosa Incredibile Sono morbidissime Quasi burrose Ci sono dei colori Come gli opachi Che sono un po' Meno Burrosi Ma perché essendo opachi Non devono esserlo troppo Ci sono delle formulazioni Per ogni tipo di Ombretto Gli opachi sono Un po' meno burrosi Ma più vellutati Mentre i Satinati Perché qui di shimmer Veri e propri Ce n'è molto pochi C'è Big Sky Wanderlust Smog Però di glitterati Per esempio Non ce n'è Sono tutti Finisce o metallici O satenne Comunque E quelli sono burrosi Mentre gli altri Matte Sono più vellutati Hanno una pigmentazione Pazzesca E una sfumabilità Davvero ottima Adesso Dopo aver preso Weekender Vado a prendere Riff Che bello Questa paletta Ha un concept Bellissimo Che mi piace Tantissimo Da amante Del travel E cose così Fantastico Riff Riff Come potete vedere È un color caramello A tutti gli effetti Proprio il color caramello O se volete Un color cammello E lo applico Come secondo Transition color Come avete potuto vedere Weekender Per me era troppo chiaro Però sono contenta Di ciò Perché le ragazze Molto chiare E ne conoscono E ne ho conosciute E fanno una fatica Incredibile A usare Come primo Transition color Un colore Per esempio Come Riff Che tendenzialmente È il primo Transition color Proposto nel 90% Delle palette Hanno bisogno Di qualcosa Di più chiaro Infatti sono contentissima Che ci sia Così come le ragazze Scure Le ragazze di colore Hanno bisogno Di qualcosa Di più scuro E qui abbiamo Baia Per esempio Che può essere Molto interessante Oppure Good as one Insomma Ce n'è Di colori Di transizione Secondo me Si riescono Ad adattare Anche le carnagioni Scure Ok Adesso invece Procediamo Con Non lo so Perché io Come al solito Non mi preparo Mai niente E vado Tutto distinto Quindi onestamente Non voglio Tornare Forse a creare Il classico Look Dei toni caldi Vorrei provare A creare qualcosa Di un po' più Intenso Però sono anche Vestita di rosa Quindi non posso Creare qualcosa Di troppo Che si discosta Troppo Insomma Dali colori Che ho Perché stasera Il make up Lo indosserò Ragazzi Stasera esco E il make up Lo tengo su Alleluia Ogni tanto Un po' di vita sociale Non fa male Ok Prendo Hell Ride Che è un colore Berry Un color berry Questo qua Con il pennello Di NYX Da sfumatura Che è il numero 32 E inizio A dare colore Alla piega Palpebrale Farò Un contrasto Tra Il berry E l'azzurro Vediamo Vediamo cosa esce fuori Ragazzi Giusto per fare Un po' Una pazzia Come vedete Sfumabilità Top Non fanno macchia Si sfumano Benissimo Ovviamente Ricordiamoci sempre Di scaricare Il pennello Prima di applicare Il prodotto Sulla palpebra E soprattutto Di avere Un tocco delicato Il pennello Non deve schiacciare La palpebra Anzi La deve proprio Accarezzare Solo così Riuscite A godere Al 100% Delle setole Del pennello Se voi schiacciate Non riuscite Ad apprezzare Nella sfumatura La rotondità Delle setole Il taglio Delle setole Se schiacciate In un certo senso Rovinate la forma Del pennello Anche Mentre lavora Dovete lasciarlo Proprio solo Accarezzare La palpebra Per farlo Performare Al meglio Stratificabile Sicuramente Stratificabile Adesso ne sto mettendo Davvero poco alla volta Perché è la prima volta Che utilizzo Questa palette E Non sto vedendo Fallout Questa è una cosa Molto positiva Assolutamente Si Il colore Che c'è in cialda È quello che ho Sugli occhi Poi Al di là Della sfumatura Però Se lo concentro Il colore Che ne esce Proprio lui È una vita Che non faccio Un halo Smoky eyes Quindi Cosa facciamo Per Fare un halo Smoky eyes Come si deve Bisogna ovviamente Caricare Quindi Prendo questo pennello Da sfumatura Da sfumatura Di NYX Questo era Del kit Con il manico Con i glitterini Rosati Prendo sempre Il berry E Lo intensifico Qui all'angolo esterno Deve essere Bello Compatto Infatti Vedete Lo sto tamponando Deve essere Intenso Ok Poi riprendo Il mio pennellino Da sfumatura E ne sfumo Solo i bordi Allora Se La Naked It Mi aveva lasciata Un po' perplessa Ragazze Nell'uso Poi costante Forse questa Mi piace di più Sapete Mi sa che Li hanno riformulati Prendo il 231 Di Jessup Prendo Un pizzico Di Punk Che invece È un marrone Caffè Proprio un color Caffè E vado solo Nell'angolo Più esterno Si mischierà Perfettamente Con Barry Come potete vedere Creando un colore Che è una via di mezzo Tra un marrone E un prugna Anche lui Non mi sta dando Problemi di fallout Poi riprendo Un po' di Hellride E Lo uso Per sfumare E intensificare Di nuovo Il colore prugna Non vi preoccupate Se lo vedete Tanto carico E che lo deve essere Per un Halo Smokey eyes Poi Invece Prendo il pennello Penna Sempre Jessup Numero 230 E a questo punto Prendo Hellride E vado proprio All'angolo interno Collegando quindi Il colore Con la sfumatura Dell'occhio In questo modo Non preoccupatevi Se la parte centrale È poco chiara Perché dopo Andremo a ripulirla E soprattutto A enfatizzare Il colore centrale Quindi il colore Che metteremo Al centro Con un correttore Hellride Come vedete Lo sto concentrando All'angolo interno Ma lo sfumo Poi verso la sfumatura E il centro Della palpebra Usate un pennello A penna Per questo Questa procedura qua Perché se no Col pennello a sfumatura Fate disastro E soprattutto Non andate oltre Il vostro Inner corner Il vostro Angolo interno Dell'occhio Non andate oltre Perché se no Vi incupite Vi chiudete Un sacco Il correttore Per fare questa operazione Deve essere molto chiaro Infatti io uso Porcelain Di Nabla E vi consiglio Di fare un occhio Alla volta Perché uno Questo si asciuga E diventa Cream to powder Quindi non è perfetto Per fare questo tipo Di Lavoro Però Secondo me Ha la coprenza giusta Al centro Dell'occhio Quindi mettetevi il pennello Così Beccate il centro Guardando fisso Davanti a voi Il centro Della palpebra Ok Stendete la palpebra Iniziate verticalmente A disegnare il centro In questo modo Per avere un effetto Più scenico Salite anche oltre La vostra piega naturale Se no Lei potrebbe perdersi Nei meandri Della vostra Piega palpebrale E qui cercate di essere Un po' più Precise La larghezza Dipende da voi Però ovviamente Non deve essere eccessiva Tipo qua Io vedo che è troppo Quindi vado subito A rimediare Con il mio pennellino Penna Ancora intriso Di berry In questo modo qua Qui voglio Arrivare proprio Fino qua E ora Pennello Da applicazione Compatto Io adoro Per queste cose Quelli di essence Tantissimo E qui prendo Big sky Che è un azzurro Pauroso E lo tampono Sopra Al correttore Questa cosa Permetterà di tirare fuori Il massimo Dall'ombretto Però ovviamente Non possiamo fermarci qua Non possiamo avere Questa striscia Quindi Dobbiamo andare A bilanciare Il tutto Con un altro pennello A penna Un po' più cicciotto Prendo radio Che invece è un blu E con lui Vado a sfumare Il bordo Senza andare Troppo Verso l'interno Sennò poi Big sky Non si vede più Praticamente È come se creassi Un'ulteriore sfumatura Verso Hellride Ok Ora prenderei Un po' di punk E Andrei A Terminare La sfumatura Verso L'angolo Esterno E Un ciccinino Anche All'angolo Interno Vedete Vedete che così Rimane molto Più morbido Prendo di nuovo Il 230 Di Jessup E sfumo Con Hellride Per non farlo Perdere D'intensità Perché ovviamente Usando poi Dei colori Scuri Vicino E poi Prendo il pennello La sfumatura Numero 31 Giusto No 32 Di NYX Risfumo Solo questa parte Qua Se vedo che All'angolo Esterno C'è troppo Stacco Vado Con Punk A mettere Del marrone Lei Lo smokey eyes Non è così facile Come sembra È molto Di tecnica Poi A parte ciò Ovviamente Una volta che Prendete Il via E lo realizzate Sempre più spesso Sono sicura Che non vi Creerà dei problemi Assolutamente Ora prendo Hairride Con il 231 No 230 Di Jessup E Riproduco L'helo Ovviamente Anche sotto Le cilie inferiori Questa è una cosa Che potete Decidere Di fare Oppure Di non fare Indipendentemente Da Quello Che richiede Il protocollo Diciamo Dell'helo Smoky eyes Che vorrebbe Insomma Che questa Procedura Venga ripetuta Anche sotto Dipende da voi Se vi piace O se non vi piace Prendo il pennellino Prendo un pochino Di correttore Lo applico Sotto le cilie inferiori Così E vado subito Immediatamente Con Big sky Sopra Il correttore Ok Così E poi Ovviamente Con Un pennello Più piccolo Quindi non Con Quello Che abbiamo Usato Nella parte Superiore Dell'occhio Prendo radio E questo Il 230 Però La versione Bamboo Che è più appuntita Rispetto alla versione Normale Vedete È più appuntita E io lo apprezzo Particolarmente Sempre Jessup Lo apprezzo Particolarmente Perché vi permette Di essere più precisi In questa zona Qui sotto l'occhio Che insomma Non è così Semplice Da gestire Posso usare Il 231 Con punk Spolverano un sacco Questi ombretti opachi Spolverano tantissimo I satinati I metallizzati No Ma con gli opachi Si Mi ha fatto Leggerissimamente Fallout Il blu Quindi Radio Mi ha fatto un po' Di Fallout Vado subito A rimediare Con un po' Di cipria La cipria Tenetevela Sempre sotto mano Ragazzi Mentre vi truccate Gli occhi Perché a meno Che voi Non preferiate Truccare Prima Gli occhi E poi Fare la base viso Cosa che A me Personalmente Non piace Però se Preferite fare come me Tenetevela Sempre sotto mano Per pulire E poi Con un pennello Un po' Più fitto Prendo Prendo un po' Di cipria E Vado a Ripulire Anche questa zona Non mi piace Tanto Tagliare con il correttore Preferisco usare La cipria Poi prendo Un po' Di Weekender Quindi il primissimo Colore che abbiamo Utilizzato E il pennello Ti ho realizzato Lo stesso Halo Anche su Anche su quest'occhio Senza usare Senza usare un colore Glitterato Che stonerebbe Parecchio Ora Eyeliner time E con un Halo Smoky eyes Dato che Secondo me Io non ho La forma D'occhio ideale Per l'Ailo Smoky eyes Vado a fare Un eyeliner Che sia Abbastanza Allungato Perché a me Piace L'occhio Allungato Con l'Ailo Tendiamo A renderlo Più A palla E la cosa Personalmente Non mi fa Impazzire Però secondo me È il miglior modo Per sfruttare Questa palette In questo caso Userò il tattoo Liner di Kat Von D E vado a realizzare Il mio eyeliner Per quanto riguarda La mascara Vado con Gentleman Di Mulac E tanto dopo Rinforzerò Con delle ciglia finte Quindi questo È il look Senza ciglia finte Ok ragazzi Le ciglia finte Che ho applicato Sono di House of Lashes E si chiamano Temptress Temptress Ho fatto Uno scandaloso Tentativo Con le mezze ciglia Di Essence Ma è stato Veramente scandaloso Queste mi piacciono Tanto perché Hanno una base Abbastanza fitta Che quindi Dà più volume Alle vostre ciglia Però sono lunghe E non coprono Il makeup Che c'è dietro Si intravede Non sono Eccessivamente Drammatiche Adesso Stavo Appunto Facendo Così Per Unire Le mie ciglia Naturali Con le ciglia Finte Perché sapete Che per farle Durare di più Quindi per utilizzarle Più volte Consecutivamente È meglio Non mettere Il mascara Anche sopra Le ciglia Finte È meglio Lasciarle Sempre così Ora ovviamente Io mi sono Sporcata Con il mascara In un paio Di punti Quindi devo andare A rimediare Come al solito E anche in questo caso Vi ricordo Di attendere Che il mascara Si asciughi Si secchi Sulla palpebra Per non Insozzarvi Tutto quanto Il lavoro Che avete fatto E voilà Il makeup Occhi È terminato Passiamo al resto Del viso Ragazze Quindi andiamo A terminare Il viso E andiamo Ad utilizzare Ovviamente Una terra Perché anche se abbiamo Fatto il contouring In crema Comunque dobbiamo Andare a Enfatizzare Un po' Il colorito Dato che abbiamo Fatto appunto Il contouring In crema Voglio vedere Se il butter Bronzer Di Physicians Formula Che io ho Nella tonalità Bronzer Adesso si vede Un po' di più Perché sto avendo Qualche problemino Con questo bronzer Nel senso che non si vede Ah adesso si Adesso Si vede È sempre chiaro Però si vede Non so sinceramente Se hanno fatto Delle tonalità Più scure Rispetto alla Più chiara Che si chiama Mi sembra Light Bronze O qualcosa del genere E questa Che invece era Quella un po' più scura Sarebbe carino Avere una tonalità Più scura Perché onestamente Andando verso l'estate La vedo dura A meno che non faccio Contouring In crema sotto Con questo La vedo Seriamente dura Però il colore Mi piace un sacco Perché è un naturale Freddo Che però vi permette Di essere utilizzato Anche in base quotidiana Assolutamente Con il contouring Ovviamente in crema sotto Voglio provare Un blush Che ho comprato Ma non ho mai provato Si tratta del Gradient Gradient highlighter Rose quartz light Di make up revolution Che però a casa mia Questo qua è un blush Magari qua c'è l'illuminante Però questi sono blush Perché sono veramente Molto scuri Vediamo un po' Guardate che bello Gradient così È molto particolare Prendo il mio fidato Pennellino di elite Da blush E Provo a fare Una Passata Da destra Verso sinistra Proviamo un po' Sicuramente Molto luminoso Questo Non c'è dubbio Beh Da destra Verso sinistra Non è neanche male Sapete Però io non lo Non lo ritengo Un highlighter Questo Questo è un blush Bello e buono Ragazze Almeno per me Che non amo I blush Particolarmente Vistosi Wow Guardate che luce Questo è Un blush Iper luminoso Infatti mi sa Che non andrò neanche Applicare l'illuminante Perché C'è Vedete qua Che roba Sì sì È un blush Cioè Guardatemi È decisamente Un blush Infatti mi fermo Non vado oltre Sulle labbra Sono molto indecisa Con due rossetti liquidi Di mesauda Uno è fudge E l'altro è Strange love Però secondo me Alla fine andrò Con fudge Adesso vediamo Un attimino Perché fudge So già che mi piace Ha quel color malva Molto interessante Strange love Invece Ah Strange love Forse però mi riprende Il color berry Che ho Nella Eh sì Come ve li faccio vedere Che ho nella piega Mi sa che invece Contro ogni prerogativa Vado con strange love E sapete che faccio Come Highlighter Quindi qua E come illuminante Sopra l'arco di cupido Prendo La parte più luminosa Del blush Che abbiamo Appena Testato Ne metto Ne metto un po' Anche Sul nasino Così Poi andiamo Di strange love Ovviamente Si è già assorbito Tutto il lucidino Di neve E ok ragazzi Si ci sta Ci sta alla grande Questo rossetto Con tutto il make up Bene ragazzi Abbiamo terminato Cosa ne pensate Vi piace questo trucco Se così Thumbs up Ed iscrivetevi al canale Vi ringrazio di cuore Per averlo seguito Fatemi sapere Cosa ne pensate Di questa favolosa palette Se pensavate Di prenderla Di non prenderla Buki lo sa Uscirà ad agosto Da Sephora Come vi ho detto Nel video di presentazione E se lo volete vedere Vi ricordo che ve lo lascio Qui sotto Nell'info box Insieme a tutti i link Dei riferimenti Dei pennelli Del cerchietto Insomma Di quello che vi serve Vi ringrazio di cuore Per aver seguito il video E se vi va Ci vediamo nel prossimo Un bacione Ciao